buongiorno vi faccio vedere ciò che i ragazzi di oggi fanno io i miei tempi non lo facevo poi danno la colpa noi camperissi che siamo qua vicini eccoli la qua ieri sera c'erano ragazzetti che purtroppo hanno lasciato proprio un disastro dappertutto buste per terra cioè incredibile maleducati al massimo proprio ciao brandon ciao kevin cosa facciamo adesso mangiare bicchieri di tutto vero non si fa vero allora li facciamo vedere come si fa vai vai prendi le cose mettiamo dentro mettiamo dentro questa busta questa è una bottiglia di amaro mettila dentro ok vai metti dentro le altre cose di tutto c'è schifo tutto schifoso guarda qua facciamo anche questi vai metti qui bravo ecco sempre con i guanti mi raccomando bravo vai brandon vai guarda che c'è un fazzoletto lì visto qui quindi quella quella lì ok via dentro c'è ancora vai bravo vai che mi metti qua c'è ancora in giro guarda c'è ancora un'altra bottiglia qui ok vai vai c'è ancora vai metti qua ok prendi anche quel pezzo di plastica ok pezzo di plastica poi basta è già abbastanza per noi ok andiamo verso brandon che c'è un'altra cosa bravo ok vai venite mettete anche i guanti qui via buttate tutto dentro ok basta così ok ecco una borsa di il supermercato piena siamo stati bravi è più pulito è più bello ok salutate ditelo fatelo anche voi ecco via abbiamo un bicchiere una bottiglia di penne anche 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 di bicchiere di penne di cioccolata carrile avete pulito tutto? anche anche una bottiglia di penne di amara che era tutto sporco lo avete pulito tutto? sì ok bravissimi meritate un bel gelato dopo ciao ciao hehehehe